Quest'anno il presepe di Manarola sarà in forma ridotta, quindi che cosa dovremmo aspettarci? Diciamo che quest'anno abbiamo deciso come associazione di continuare nell'allestimento del presepe di Maria Andreoli, però visti i tempi abbiamo fatto un'edizione un po' ridotta sul numero delle figure, che comunque rappresenteranno appieno tutto il presepe, ma invece delle 300 figure saranno circa 180-200 figure che stiamo allestendo in questi giorni. Non ci saranno quindi tradizionali fuochi d'artificio, la fiaccolata, ma in cambio ci saranno statuine dedicate al personale infermieristico. Sì, diciamo che l'accensione quest'anno abbiamo evitato anche per le norme nazionali che ci sono e anche sicuramente per il rispetto per le molte vittime di quest'anno, di fare fuochi d'artificio e fare tutto quello che era contorno dell'accensione del presepe. Quindi ci sarà un'accensione solo e esclusivamente all'imbrunire alle 17.30 circa. E la novità voluta da Maria Andreoli sono due figure che rappresentano gli operatori sanitari e il presepe quest'anno sarà dedicato a loro e a tutte le persone che in questo anno molto difficile hanno collaborato per poter riuscire in maniera migliore. Qual è il messaggio che si vuole trasmettere anche nel non mollare nonostante la pandemia? Il messaggio è quello di Mario che in tutti questi anni, con tutto quello che è successo, con tutti i suoi problemi, l'età che avanza, non ha mai voluto lasciare il paese di Manarola senza il suo presepe. Quindi noi, un po' più grandi, ma soprattutto da quest'anno molti ragazzi del paese, hanno voluto prendere questo impegno che è per la comunità di Manarola e per tutti coloro che potranno venire a visitare il presepe. Non sarà possibile quindi vedere il presepe di persona, ma comunque tramite i social si potrà assistere all'accensione? Sì, la novità di quest'anno è che abbiamo pensato di dare la possibilità a più persone possibili di assistere all'accensione, anche grazie alla vostra collaborazione stiamo predisponendo una visione sui canali Facebook e anche sui canali istituzionali del Parco e del Comune di Rio Maggiore. La sera dell'8 l'accensione in diretta e poi anche con il posizionamento di una webcam che si accenderà alle 17.30 fino alle 22.00. Quindi ogni giorno, andando sulla nostra pagina Facebook, si potrà vedere il presepe. E la diretta potrà essere seguita anche sul nostro canale di Tele Liguria Sud, canale 19 per la Liguria, mentre 172 per la Toscana.